stasera che ha il coraggio di prenderle ci portiamo a casa la cintura, qualche dente e magari qualche coppina di qualche quale prendete dai, vediamo chi è il primo caso umano vediamo chi è il primo che ci ha coraggio di confrontarsi con il grade 11 mamma mia proprio andiamo bene la creme della creme cioè proprio di gente scarsa ne abbiamo saccagnata però ve lo provo vieni qua la roba dove lo vuoi? lì 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 12 12 12 13 15 15 15 16 16 18 19 19 Gli occhi la guarda e dici BAH! Non abbiamo faticato neanche a vincere questa L'abbiamo fatti Ma da che era la sincopla? Guarda, non me lo ricordo Non me lo ricordo Non me lo ricordo Cominciamo Il 25 mi sembra Boh Può essere Non è importante Se c'è tempo con una ragazza e l'altra Andremo a vincere uno stesso Ma si intanto Hai fallito i programmi E prenderò il primo taglio E si dovrebbero accadere